Da una parte c'è chi vuole andare oltre le defezioni causate dal coronavirus, dall'altra chi vuole riavviare il motore dopo una domenica sportivamente da incubo. Monopoli e Virtus Francavilla sono chiamate nel turno infrasettimanale del gruppo C di Serie C a riavviare un motore che per entrambe si è fermato a domenica 1 novembre, data del derby del Veneziani che ha visto prevalere per 3 a 1 gli ospiti allenati da Bruno Trocini. I biancoverdi di scienza domenica scorsa non sono scesi in campo contro il Biceglie a causa della dozzina di positivi nella squadra avversaria e hanno poi preparato in un mare di difficoltà la sfida interna alla Viterbese in programma alle 15. Alla vigilia della gara erano infatti ben 12 di cui 10 giocatori i positivi al coronavirus inorganico, defezioni che hanno condizionato profondamente la preparazione della gara per l'allenatore di Domodossola che dovrà fare a meno anche di Piccini infortunato e dello squalificato Sales. È totalmente di grande emergenza ma confido una prova d'orgoglio dei ragazzi, voglia di riscattarsi dopo la brutta partita di domenica scorsa, voglia di dare una soddisfazione a tutti i ragazzi che sono stati attaccati da questo virus che stanno vivendo delle ore di ansia e di tristezza. Abbiamo visto ieri alcuni di noi con la valigia premere andare in isolamento perché non fa bene. Di fronte il Monopolis in cui mai vittorioso in casa avrà una Viterbese a quota 6 punti dopo 8 gare, alle 15 scenderà in campo anche la Virtus Francavilla. Quella del gruppo di Trocini ha il sapore di una mission impossible o quasi. I biancazzurri saranno infatti di scena nella tana della ternana capolista capace di vincere sin qui 6 partite, pareggiarne 3 e di non perdere mai con un pocherissimo di vittorie consecutive alle spalle. Dimenticare l'1-3 di domenica contro la Casertana è la priorità di Franco e Soci. A 8 punti dopo 9 partite si va verso la conferma del 3-5-2 con Calcagno candidato a prendere il posto dello squalificato del vino in difesa, Giannotti e Nunzella favoriti in fascia e Mastropietro accanto a Perez in attacco.